Bella raga, qui Zeus, benvenuti qui in questo nuovissimo video qui sul mio canale Oggi raga, come avrete letto dal titolo, siamo nello speciale dei 100 iscritti Ehm, premessa, io non sono bravo a disegnare, però vabbè, partiamo Sono nato a Palermo, il 6-10-2003 Pensavo 3,8 kg, sì, non ero in gran forma Avete presente quella fase dove i bambini gattonano? Ecco, io l'ho saltata, passando dal girello a camminare da solo All'età di 4 anni, i miei hanno iscritto all'asilo Andavo dalle suore, vicino a casa mia, sono stati degli anni davvero divertenti A 6 anni iniziano gli alimentari, mi ricordo che ero molto lento a fare i compiti, a scrivere Ma in piscina ero una scheggia, sì, già facevo piscina Oltre alla piscina sono il pianoforte, ma non me la cavavo così tanto male All'età di Beethoven Passano gli anni e arrivo alle medie Primi due anni li ho fatti al Maria dell'Aide, uno degli educandati più famosi di Palermo L'ultimo anno invece, per problemi tecnici, sono andato in una scuola vicino a casa mia Ehm, se ve lo stavo chiedendo, sì, ho molte scuole vicine Sono uscito dalle medie con set, meritavo qualcosa in più, però vabbè L'anno scorso iniziano le superiori E insieme a questo passo avanti, inizia anche un corso d'inglese E il rinizio vicino, un vero inizio L'anno scorso è volato e adesso mi trovo alla classe S2 senza tanti problemi Beh, io penso di avervi detto tutto Quando rifarò il prossimo Draw My Life Tra un po' di tempo, così avrò più cosa a raccontarvi Raga, ci si becca a un altro appuntamento Vi ricordo che c'è un bellissimo like se vi è preso questo video Un pochettino cortino, però ci sta anche Ehm, lasciate like, commentate, condividete Ci si becca a un altro appuntamento Qui il vostro Zeus Bella bomber, alla prossima Grazie